Buongiorno a tutti, sono Giovanni Zaffettieri della Fondocasa Immobiliare, sono lieto di presentarvi questo immobile, una buona visione a tutti. In Periale vediamo questo appartamento al terzo piano, siamo all'inizio della parte bassa, quindi quasi in cima via Donaver. Entriamo, abbiamo questo grande ingresso che può fungere anche da San Uttino. E poi di che procediamo, qui sulla sinistra abbiamo un comodo ripostiglio, già scaffalato come potete vedere. Qui la cucina, che è una bella cucina abitabile con un bel balcone, dove si può comodamente stendere. Ecco, un bel balcone, una vista abbastanza aperta. Qui vediamo quindi la cucina. Proseguiamo. E qui abbiamo una enorme camera da letto matrimoniale con lo stesso affaccio della cucina. E qui il bagno con la masca. L'appartamento è stato completamente ritinteggiato, quindi il rifiopito l'anno è un quattro vani, un bel ingresso a redabili che può fungere da salotto, una cucina molto grande, una cucina abitabile, la camera da letto matrimoniale, un comodo ripostiglio e il bagno. E qui terminiamo la nostra visita. Spero che l'immobile che avete visionato sia stato di vostro gradimento. Potete contattarmi per questo immobile o per qualsiasi ulteriore chiarimento al numero che apparirà in sovraimpressione. Buona giornata a tutti.